Un'intera giornata a Sulmona per l'abito internazionale, Maurizio Mariani, che domani, 13 dicembre, incontrerà gli studenti delle cioferme di Sulmona. A mezzogiorno, nella lavagna della scuola sulmonese, Fischietto di Aprilia, parteciperà all'evento Scegliere di Essere Arbitro. Oltre a Mariani, interverranno il presidente della sezione AIA, Giulio Di Bartolomeo, la dirigente scolastica, Luigina D'Amico, il sindaco Gianfranco Di Piero. Maurizio Mariani, in serata alle 18.30, terrà una riunione tecnica nella locale sezione Arbitro in Via Carrese. Il presidente della sezione AIA, Giulio Di Bartolomeo, esprime soddisfazione per la presenza di Mariani, premiato come miglior arbitro di Serie A della passata stagione, insieme a Daniele Doveri e Daniele Orsato. Quest'anno ha diretto Milan-Napoli, il derby Torino-Juventus, Atalanta-Napoli, ma anche gare di Europa League.